Care italiane e cari italiani, è stato un anno difficile per l'andamento di un'emergenza sanitaria lunga e logorante. Ma lo dico con orgoglio, il nostro Paese ha saputo rialzare la testa e vincere sfide importanti in molti settori, soprattutto grazie ai vaccini. Penso all'economia, allo sport, alla ricerca. Grazie Italia, grazie a tutti i cittadini, perché con la vostra responsabilità, i vostri talenti, la vostra eccellenza avete fatto volare in alto il tricolore. Questo è il nostro cammino, perché il 2022 sia l'anno della definitiva liberazione dal virus in un'Italia dove l'economia continua a crescere. Auguri di cuore a tutti voi e alle vostre famiglie.